Sono migliaia i figuranti che in tanti angoli del territorio aretino ricostruiranno la passione di Cristo nel giorno del venerdì santo. Tante le sfumature di ogni rappresentazione. A Castiglione Fiorentino è da sempre apprezzata la via Crucis con gli incappucciati per i borghi della città del Cassero. A Meleto non sarà una tradizionale via Crucis ma un singolare viaggio sulla via della croce raccontato da chi c'era e da un uomo d'oggi. A Monte San Savino i figuranti invece delle compagnie sfilano a passo lento e a volto coperto portando lampioni, croci e statue rappresentanti la passione di Cristo. In città sono due gli eventi che da sempre richiamano i fedeli San Zeno e Santa Firmina che quest'anno compie vent'anni. Partiremo con la rappresentazione dell'ultima scena. Poi passiamo alla notte di preghiera di Gesù nell'orto degli Olivi dove verrà arrestato e condotto dai membri del Sinedrio. Qui verrà processato, poi portato da Pilato, fustigato, quindi abbiamo tutta la parte della flagellazione e poi caricato della croce inizierà il percorso della salita alla collina di Caglialla che per noi rappresenta il Calvario, quindi il Golgotha dove viene crocifisso Gesù. Durante il percorso si dipanano tutte le stazioni dove il nostro parroco Don Stefano Sereni insieme ad alcuni parrocchiani leggerà dei testi tratti dalla Bibbia e pregheremo insieme. Giunti alla sommità della collina li metteremo in scena la crocifissione, la deposizione di Gesù e infine la sepoltura. Grazie. 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 Grazie.